Davanti a Palazzo Moroni per gridare uno stop alle violenze di genere e ai femminicidi. A terra quattro donne, nell'area i nomi delle vittime. Si può fare ancora molto contro la violenza sulle donne, è questo il messaggio che viene lanciato nel flash mob al quale non solo le associazioni ma anche molti cittadini hanno partecipato. A mancare è l'educazione e la sensibilizzazione sul problema, oltre a politiche specifiche per contrastare e prevenire la violenza, strutture e servizi per accompagnare chi scappa. Domani sarà la giornata internazionale contro il femminicidio, che in Italia conta 32 casi, a fronte di 94 morti femminili, numero che rimane alto anche se dimostra una piccola diminuzione, segno che si può e si deve fare ancora di più. Sfiscimbar Channel News, Padova.